Buongiorno a tutti, io sono Fabio Assenzio, sono responsabile marketing di Ergonet, noi siamo uno sim provider di Viterbo e oggi vi parlerò per Linux Day di Orvieto dei vantaggi a lungo termine dell'utilizzo dell'open source nella scuola ringrazio davvero il Lug di Orvieto per l'invito, in particolare Marco che è un collega, Elian, insomma tutti coloro che hanno partecipato per creare questo evento online davvero particolare. Cominciamo subito, oggi cosa vedermi insieme? Vedermi innanzitutto cosa dicono le linee guida sull'acquisizione e riuso del software delle PA, le linee guida sono uscite l'anno scorso c'è stato poi qualche aggiornamento, ma in generale valgono per qualsiasi scuola. Tutte le scuole sono delle PA e anche se qualche scuola non pensa di esserlo e quindi tutte devono seguire le linee guida. Vedremo anche cosa non dicono le linee guida, quindi quali sono i vantaggi a lungo termine nella vita reale per la scuola, per gli studenti, per i docenti e un progetto da prendere come esempio, un progetto che è nato ancora prima delle linee guida e che sembra da cui sia stato preso spunto per scriverle. Però lo vedremo insieme più tardi. Allora, partiamo dalle linee guida sull'acquisizione e riuso del software. Cominciamo da capire il perché nascono le linee guida. Le linee guida nascono per spingere la condivisione e riuso di software libero. Non nascono per spingere la condivisione di software proprietario. Le linee guida parlano molto chiaro. Si parla esclusivamente di software libero, in particolare nel momento in cui si cerca di vederlo come una preferenza. Cioè la preferenza deve essere quella. Se poi proprio non è possibile farne a meno, allora comunque si può far intervenire un'azienda esterna per fare qualcosa di particolare. Ma comunque la preferenza deve essere quella del software libero. Perché? Perché si sono accorti finalmente dopo 30 anni che se una pubblica amministrazione riusa e quindi acquisisce un software da un'altra pubblica amministrazione parliamo in questo momento di scuole che sono l'argomento di questo talk non ci sono né spese di progettazione né spese di realizzazione e quindi c'è anche una valutazione economica da che si migliora. Quindi finalmente dopo 30 anni si sono accorti di questo e hanno deciso di spingere proprio l'utilizzo del software libero. Questo è davvero un cambio culturale, io lo vedo proprio come un cambio culturale. Perché comunque le linee guida prevedono una valutazione comparativa, tecnica ed economica sul software che si andrà poi a scegliere. Quindi già solo questa particolare necessità evita il fatto che si lavori per conoscenze. Noi italiani nel pubblico spesso lavoriamo per conoscenze purtroppo e quando però è necessaria una comparativa tecnica-economica quindi si deve giustificare perché per esempio si scelga di utilizzare un software chiuso con licenza non open source. Di conseguenza considerando anche che ci possono essere altri esempi di scuole che utilizzano software open source per fare la stessa cosa ed è molto facile reperire questa informazione non ci sarà diciamo più la scusa di dire insomma ho trovato questa azienda che potrebbe scrivere questo software quindi questo è molto molto positivo. Ripeto per l'ennesima volta si devono privilegiare le soluzioni open source quindi la licenza comunque deve essere aperta questo quindi cosa vuol dire? Non vuol dire che o troviamo un software pronto e lo utilizziamo anche non so sto parlando di software esterni progetti diciamo a collaborazione esterna dobbiamo usare quello e basta noi possiamo anche far intervenire un'azienda che però lavori con licenza libera un'azienda che sviluppa un software che possa essere quindi riutilizzato da un'altra PA questo è fondamentale soprattutto questo software deve essere censito in base a delle regole indicate nelle linee guida e deve essere presente in un repository aperto che è quello di Developers Italia quindi tutti i software a riuso devono essere presenti in questo repository perché ci sono anche delle descrizioni per cosa vengono utilizzati dove sono stati presi qual è l'indice di vitalità di un progetto l'indice di vitalità tendenzialmente fa capire se un progetto è abbandonato oppure è stato aggiornato di recente quindi se qualcuno ci sta lavorando se qualcuno sta proponendo delle risoluzioni di eventuali bug o dei miglioramenti questo è davvero un cambio culturale enorme è molto positivo secondo me dobbiamo essere molto contenti di questo nuovo approccio che finalmente può davvero far cambiare le cose soprattutto nella pubblica amministrazione c'è però ci sono delle occasioni in cui l'open source è tendenzialmente escluso nel senso che il governo ha previsto delle condizioni in cui non è proprio necessario che si utilizzi il software open source queste occasioni sono pensavo a guardare l'ordine e la sicurezza pubblica per la difesa nazionale o eventualmente per le consultazioni elettorali questa è una scelta derivante probabilmente da un momento storico in cui noi stiamo vivendo non sto qua a dire se è giusto o sbagliato diciamo che per il momento ci accontentiamo così anche se ad esempio per le consultazioni elettorali mi viene in mente che avere del codice sorgente aperto potrebbe essere utile per scoprire eventuali problemi però insomma cominciamo così per il momento accontentiamoci queste linee guida nelle linee guida è previsto un elenco un elenco di software di applicazioni di soluzioni che devono rispettarle qua ho messo un elenco preciso di cosa prevedono le linee guida come vedete c'è veramente di tutto dalle applicazioni ai framework i plugin eventualmente per CMS per qualsiasi tipo di software della pubblica amministrazione ci sono anche i sistemi operativi i siti web ma ci sono anche i manuali la documentazione la grafica insomma non parliamo esclusivamente di software parliamo anche di tutto ciò che è correlato al software quindi davvero una documentazione un manuale o una grafica quindi anche questo è molto importante perché le linee guida sono state scritte per il software ma auspicano che vengano utilizzate anche per la gestione documentale per la gestione del personale e di qualsiasi altra cosa che può riguardare la scuola quindi sono la visione con cui sono state scritte è davvero molto molto ampia e non riguarda solamente esclusivamente il software di per sé ora che abbiamo capito che cosa dicono le linee guida vediamo cosa non dicono le linee guida quindi adottandole quali sono i vantaggi a lungo termine che una PA una scuola in questo caso nel dettaglio può avere il primo vantaggio a lungo termine è sicuramente la sicurezza con l'utilizzo di software libero quindi software con sorgenti visibili a tutti e nel momento in cui c'è un bug di sicurezza questo bug può essere risolto da chiunque quindi chiunque abbia la capacità e stiamo parlando di studenti stiamo parlando di docenti stiamo parlando di aziende effettivamente che di appassionati e chiunque davvero chiunque questo lo vediamo con i progetti open source di tutto il mondo non sono solamente i soliti noti insomma che che vanno a risolvere un bug di sicurezza quando viene scoperto e tra l'altro perché viene scoperto perché effettivamente c'è qualcuno che va a spulciare il codice quando un software open source non immaginate neanche quante persone e comunque è importante viene utilizzato in tante istituzioni in tante aziende lo usano a tante persone ci sono davvero tanti possiamo dire nerd che per passione perché vogliono aiutare e questo è bellissimo vanno a spulciare il software alla ricerca di eventualmente qualche falla di sicurezza e possono proporre anche una soluzione un'altra cosa molto molto vantaggiosa a livello di sicurezza è che la diffusione della notizia di un bug di sicurezza è praticamente immediata cioè quando c'è un bug di sicurezza si cerca di diffonderlo diffonderne la conoscenza il più possibile questo perché perché molto spesso molto spesso è possibile senza che effettivamente il bug venga risolto eliminando una funzionalità del software risolverlo ok quindi se io ho un software che ha un problema perché un form permette di inserire qualsiasi tipo di file perché l'input non è stato gestito bene quindi posso caricare un file php piuttosto che solamente un file di testo allora io posso disabilitare momentaneamente la pagina del form o il form stesso o la possibilità di inserire documenti nel frattempo che il bug viene risolto questo con i software commerciali spesso non avviene spesso succede che l'azienda riproduca una risoluzione del bug di sicurezza e nello stesso tempo diffonda la conoscenza dello stesso quindi questo è il primo vantaggio per quanto riguarda la sicurezza è un vantaggio lungo termine perché c'è per tutta la durata dell'utilizzo la qualità del codice per un progetto open source è molto elevata questo perché per quanto possa essere grande un'azienda sicuramente pensiamo soprattutto in un ambito scolastico nazionale se quel codice è visto da tantissimi docenti esperti quindi tantissimi studenti appassionati che lo analizzano sicuramente ci sarà sempre qualcuno più bravo di noi quasi sicuramente quindi più bravo di chi ha effettivamente scritto quella riga di codice ricordiamoci che i software sono fatti da tantissime righe di codice ogni cento righe di codice ci sono mediamente dieci errori o possibilità di miglioramento se non ricordo male la media è proprio questa e quindi chiunque può apportare un miglioramento quindi tante persone che mettono gli occhi sul software danno comunque più esperienza e come si dice sempre 4 occhi sono meglio di 2 anche ci possono se pensate anche possono essere creati anche dei contest tra gli studenti per il miglioramento del codice quindi anche questo è un vantaggio a lungo termine un altro è il coinvolgimento parlavo prima del contest ed è assolutamente vero ovviamente è vero che il coinvolgimento a livello di lavoro scuola o scuola lavoro meglio è soprattutto indirizzato a delle persone che sono appassionate di informatica però ricordiamoci che le linee guida hanno previsto anche che vengano utilizzate per la documentazione la manualistica la grafica quindi si hanno comunque delle possibilità anche gli studenti che vogliono occuparsi di altro che sono bravi a scrivere che sono bravi a disegnare eccetera eccetera quindi questa è comunque un'introduzione al lavoro secondo me è assolutamente un modo per far parte di un progetto esattamente come si fa in ufficio in qualsiasi azienda e portare la propria la propria esperienza e collaborare affinché si raggiunga un obiettivo c'è anche un grandissimo vantaggio che è il coinvolgimento professore-studente perché in questo caso il professore si si fa portavoce di un approccio alla conoscenza un approccio al coinvolgimento di tutti gli studenti e quindi sicuramente si migliora da questo punto di vista il il rapporto e poi si ha un grandissimo coinvolgimento studente-studente perché lo dicevamo prima se facciamo parte del dello stesso progetto per migliorare un documento per migliorare un software comunque dobbiamo in qualche modo collaborare e quando si collabora si si ognuno con le sue conoscenze porta dei vantaggi al progetto e quindi sicuramente si stringono dei rapporti assolutamente più coinvolgenti e sono sicuro che questo migliori anche tutte quelle situazioni di bullismo di razzismo che ci andiamo a trovare poi nelle scuole purtroppo parliamo anche di hardware perché l'utilizzo di software open source permette di avere di avere un hardware meno potente sappiamo benissimo che adesso faccio l'esempio con windows comunque le caratteristiche per far funzionare il software operativo windows a livello di hardware sono molto più alte rispetto a quello linux dopo lo vediamo meglio con il progetto che vi presenterò ma soprattutto c'è meno obsolescenza e questo è anche una linea guida che ha dato l'unione europea quindi si deve cercare di di evitare l'obsolescenza l'unione europea ha anche fatto delle multe a le grandi aziende per l'obsolescenza programmata questo lo sappiamo benissimo di conseguenza un software un hardware un computer rimane operativo più a lungo quindi anche da questo punto di vista c'è un vantaggio tolto che anche evitare una perdita di tempo per la ristallazione eccetera eccetera il supporto in questo caso il supporto prima di tutto può essere interno perché ci possono essere lo vediamo dopo anche nel progetto che vi presenterò delle delle soluzioni in cui il supporto è interno alla scuola se non almeno è gestito da un ente da un solo ente ma soprattutto il supporto può essere anche di aziende esterne se magari hanno scritto loro quel pezzo di codice ma tendenzialmente se lavorano con l'open source queste aziende forniranno un'assistenza seppur a pagamento comunque più celere perché? perché se un'azienda lavora con l'open source il suo obiettivo primario il suo core business è quello di fare assistenza perché è da quello che ci guadagna di conseguenza sarà sicuramente più celere non bisognerà aspettare mesi e mesi come vedo succedere in alcune scuole per risolvere un problema il prezzo perché ovviamente un vantaggio a lungo termine dell'utilizzo dell'open source è che si va a risparmiare anche questo lo vediamo nel dettaglio con il progetto che vi presenterò dopo il progetto FUS ma tendenzialmente è così quindi utilizzando software libero comunque si risparmia anche questo sicuramente è un motivo per cui la scuola o il governo ha deciso di proporre queste linee guida facciamo attenzione non è gratis non è proprio gratis infatti ho scritto perché come ho detto prima l'assistenza comunque si paga l'hardware comunque si paga quindi ricordiamoci che non è gratis ricordiamoci che l'open source permette a chiunque di fare qualsiasi cosa ma non è completamente gratuito ci sono comunque dei professionisti che ci lavorano ci sono degli esperti che sanno dove mettere le mani sicuramente meglio di tanti altri e l'esperienza va pagata anche dal governo anche dalla scuola abbiamo visto cosa non dicono le linee guida quindi con i soli vantaggi a lungo termine dell'utilizzo di software liberi soprattutto nelle scuole adesso vediamo un progetto da prendere come esempio il progetto FUS il free upgrade for a digitally sustainable school è un progetto bellissimo io ho avuto modo di approfondirlo proprio cercando delle informazioni per fare questo talk non lo conoscevo sinceramente è assurdo che si conosca così poco quindi visto che lo reputo davvero interessante l'ho portato come esempio di software libero utilizzato nelle scuole di software libero che è perfettamente in linea con le linee guida il progetto FUS è una soluzione basata su GNU Linux completa è sia server che client ed è basata su Debian viene utilizzata dalla in questo momento provincia autonoma di Bolzano per quanto riguarda le scuole in lingua italiana perché loro hanno anche le scuole in lingua ladina e tedesca e comincia a essere utilizzato anche in altri progetti non solo per la provincia autonoma di Bolzano ma anche in per altri progetti per esempio a Jesolo o in Emilia Romagna hanno cominciato delle scuole ad utilizzarlo questo che vedete è il sito ufficiale poi spero che nel video possa aggiungere dei link insomma dei un po' di documentazione a riguardo di tutte le cose che sto dicendo allora il progetto FUS nasce 15 anni fa da tendenzialmente tre entità la True Light SRL che è un'azienda privata quindi come dicevo prima le aziende private possono lavorare con l'open source e lo fanno e possono integrarsi anche con con le scuole con le PA al quale è stato appunto è stato richiesto di occuparsi della progettazione e inizialmente è stata diciamo pagata questo intervento dal Fondo Sociale Europeo e anche dall'istituto e anche grazie all'intervento dell'istituto Enaudi di Bolzano lo scopo del progetto era permettere di utilizzare software libero nelle scuole e permettere anche a chi tornava a casa di utilizzare la stessa tipologia di software senza pagare nulla la cosa fantastica del progetto FUS è che fa anche da server quindi non parliamo solo di client quindi di siamo creativi installati all'interno di laboratori ma si occupa di Active Directory domain controller anche per macchine Windows perché ci sono anche le possibilità di fare dual boot per software che possono esistere funzionano solo su Windows c'è una condivisione del far remoto gestisce l'accesso a internet insomma fa veramente 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 tutto è davvero bello ad oggi è installato su più di 70 server e 5000 postazioni che sono utilizzate da circa 16000 studenti la migrazione diciamo la parte più difficile è stata la migrazione quindi come vi dicevo prima è stato utilizzato un fondo sociale europeo anche l'intendenza scolastica italiana di Bolzano ha diciamo sovvenzionato la cosa e quindi la migrazione verso questo tipo di soluzione open source comunque ha richiesto degli investimenti pubblici torniamo al fatto che non è gratis torniamo al fatto che se si vuole investire nell'open source è necessario comunque inizialmente investire economicamente poi negli anni come vedremo i risultati tornano indietro quindi sono necessari gli interventi fisici sono stati necessari gli interventi fisici per l'installazione la gestione delle macchine che tra l'altro adesso viene remotamente però inizialmente è stato così ed è stato anche necessario formare il personale gli studenti i docenti che prima utilizzavano un certo tipo di software dovevano essere formati per utilizzare un altro come sappiamo l'open source è molto intuitivo però c'è comunque bisogno di questo tipo di formazione quello che vedete sono i dati dei costi del progetto FUS dal 2005 al 2019 come vedete nel 2005 c'è stata la migrazione iniziale più lo sviluppo quello che è stato fatto tendenzialmente dalla TrueLight SRL e come vedete i costi sono stati molto alti i primi due anni ma più andiamo avanti negli anni potete vedere più i costi annuali si fanno veramente irrisori rispetto a quelli che si avrebbero utilizzando una soluzione commerciale una soluzione chiuse per farvi capire più o meno qual è la differenza investendo nel progetto FUS in 15 anni si sono spesi 670.000 euro considerando anche ricordatevi la migrazione iniziale perché quella come vedete più lo sviluppo è costato 300.000 euro quindi praticamente la metà dell'investimento è andato via con quello e poi vediamo perché è anche importante acquistando solamente delle licenze Microsoft per 15 anni per diciamo tutte le scuole italiane con lingua italiana della provincia di Polzano si sarebbero spesi 2,5 milioni di euro quindi a livello economico gli ultimi 8 anni di FUS equivalgono a un anno di licenze Microsoft ok qua ragazzi prendiamo l'esempio di Microsoft ma ci sono tante altre aziende commerciali è quello più conosciuto quello più utilizzato quindi usiamo quello i vantaggi lungo termine torniamo a quelli che abbiamo detto prima sicurezza qualità del codice supporto ci sono 10 tecnici per la manutenzione e gli aggiornamenti che hanno più o meno 10 istituti da gestire a testa e inoltre c'è un docente per istituto che fa anche da supporto di primo livello come vi dicevo anche Windows è supportato ci sono dei software che funzionano solo con Windows non c'è nessun problema ci sono i dual boot quindi se vogliamo usare Windows e pagare la licenza perché abbiamo un software che funziona solo con questo operativo possiamo farlo però lo facciamo solo per quel computer ok quindi la sicurezza del codice supporto sono garantiti in questo modo qui ovviamente nulla vieta che si possono far intervenire aziende esterne nel caso in cui ci sia necessità di farlo quindi si fanno dei bandi come avviene per qualsiasi cosa e si risolve un problema si fa un aggiornamento eccetera eccetera l'altro coinvolgimento allora questo è un vantaggio che dicevo prima tra studente studente scuola lavoro e studente docente allora la cosa fantastica è che effettivamente tramite il FUS si sia visto nella vita reale che effettivamente il coinvolgimento c'è ed è molto forte perché gli studenti hanno migliorato documentazione hanno scritto software hanno migliorato delle traduzioni hanno realizzato contenuti che poi sono rimasti comunque nell'ambito del progetto questo è bellissimo perché la scuola viene vista come una cosa a cui partecipare e non che bisogna subire e quindi sia gli studenti che i docenti possono partecipare al processo di costruzione della conoscenza possono essere parte attiva quindi possono davvero gli studenti fare la differenza e prendere parte le decisioni questo secondo me è molto importante perché entriamo in una visione di collaborazione e non di competizione spesso la competizione è quello che sta venendo fuori sta cominciando a creare un po' di problemi cioè si sta capendo che la collaborazione collaborare far collaborare un gruppo di studenti è molto meglio che metterli in competizione e questo spero che diventi diventi veramente una regola per la scuola del futuro un altro vantaggio che si è visto realmente è per quanto riguarda l'hardware l'hardware obsoleto che ha più di 10 anni può essere utilizzato per far funzionare il suo operativo FUS l'unica cosa che mi è stato detto che è stato fatto è eventualmente velocizzarlo un po' per a livello di disco quindi mettere un disco ssd e sono state utilizzate circa 1500 client macchine quindi che hanno meno di 4 giga di ram e che funzionano benissimo oltretutto quindi addirittura sono stati riutilizzati computer che venivano considerati vecchi e recuperati da altre PA quindi no no questo computer la PA non lo vuole più perché Windows gira male oppure non è più compatibile con l'hardware perfetto lo prendiamo noi ci facciamo girare FUS e lo facciamo utilizzare da uno studente quindi anche per lo stesso motivo noi client noi computer sono molto meno potenti quindi costano di meno e qua arriviamo a un vantaggio relativo al prezzo quindi agli investimenti economici non c'è necessità di acquistare sistemi operativi e software abbiamo visto prima qual è la differenza in termini economici che è davvero importante ma soprattutto la scelta del nuovo hardware è molto più ampia ed economica più o meno un computer portatile acquistato con sistema operativo e Microsoft Office costa 500 euro un computer senza sistema operativo o con Linux installato costa in tonne 350 euro questi dati sono dati che mi sono stati forniti sempre dal progetto FUS ma sono visibili a tutti tramite il Consip quindi il FUS è un progetto stupendo che rispetta le linee guida ancora prima della loro esistenza sembra quasi che le linee guida siano state scritte prendendo come esempio il FUS perché il FUS prevede davvero rispetta davvero tutte le linee guida del 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 governo e non manca davvero nulla il FUS è un progetto ovviamente comunitario quindi è un progetto open source voglio comunque nominare il progetto su di Linux il software didattico per Linux che è un progetto simile a FUS però non ha la parte server io ho parlato del FUS perché ha anche la parte server e quindi è assolutamente completo il su di Linux invece ha solo tra virgolette se vogliamo dire così la parte client però è un progetto anche questo davvero interessante che vi consiglio di approfondire eventualmente fatto dal cnr e l'aica è la cosa più bella di il su di Linux che tra l'altro ho visto che da anche cioè anche in FUS sono presenti dei pacchetti di del software creato da che è incluso in su di Linux è creato da loro e comunque la la presenza di software che aiuta i portatori di handicap quindi chi ha delle difficoltà ad utilizzare su un su un dispositivo elettronico delle il stesso operativo quindi ci sono dei lettori di schermo degli ingranditori il supporto al chat screen delle barre braille ci sono veramente tantissimi software che aiutano chi è meno fortunato chi ha un problema a comunque sfruttare la parte diciamo digitale della scuola io avrei finito vi ringrazio davvero tanto dell'ascolto spero che con questo talk vi abbia fatto scoprire dei progetti interessanti vi abbia fatto capire che utilizzando l'open source nella scuola ci sono davvero tantissimi vantaggi sia a livello economico sia a livello sociale sia a livello proprio di sviluppo del paese e niente ringrazio ancora gli organizzatori per l'invito e buon Linux Day a tutti si non